Il ragù papulea tutta la notte, non so se lo sai, il ragù di soffiato è fermo. Lo fa mia mamma! Lo fa il sabato sera. Ma ricordiamo che nella zona est di Napoli c'è rimasti un po' retro. No, retro, eh, quello è vintage. L'attaccano alla cucina tua madre, non te ne vedi da fare. In realtà mia mamma lo mette a fuoco lento e poi si sveglia durante la notte e diciamo lo spegne o lo riaccende, insomma. Mimmo dice sì perché purtroppo mamma fa... Io dico sì. Chris Roche, nothing but shame. Io pensavo che stavo per morire. Un momento di suspense. Non vi è piaciuto? No, perché siamo gli incorreggibili di radio siani. Comunicate, riusciate e partecipate. No, che ce la cimino, che intanto si emoziona perché questa sera siamo con Rosario e Mariarchi insieme qui fisicamente in studio, ragazzi. È bene, sì. Una cosa veramente fantasmagorica. È vero, è vero. Accardo, cosa fai domani per San Valentino? Già l'hai chiesto, già gli ho chiesto. No, più che altro volevo dire che Rosario, Rosario, siccome lui so che sta facendo dei corsi con un maestro... A diventare un maestro di charme che è il nostro Carlo Russo e il nostro project manager. Penso che ha perduto solo tempo a casa. Non è vero. Accardo perde tempo. Lo pensa anche Ciro Livio. Due volte a settimana a casa di Carlo Russo a capire come si fa l'uomo vero. Adesso facciamo una sorta di simulazione. Tu che devi chiedere ad una ragazza a casa... Tu nel senso Rosario. Ma tu Rosario. Tu proprio. Che devi fare... Ma solo con una dichiarazione. Devi chiedere ad una ragazza a casa, tipo Mariarchi Romano, che diciamo che per occasione si chiamerà Francesca, come la Cimmino. Tu ti chiami Roberto, come il nostro amico. Ma non è la Cimmino, lo sottolineiamo. No, vabbè, in tipo la Cimmino. E anche Mariarchi, grazzettiamolo. Anche se poi dai giochi si va a fine, anche sulle cose vere, lo ricordiamo. Cioè il gioco può diventare la realtà. Ma anche no. A volte capita, devi chiedere a questa Francesca di uscire. Che poi tra tanti nomi che potevi scegliere. Non è Francesca. Quindi Rosa, concentrati un attimo e chiedi a questa ragazza di uscire. Però sii convincente, presentati, cosa fai, sono chi... Convincente, mi raccomando. Non a me, a Mariarchi, di là, di là, di là. Non è assoluto guardare gli occhi così rinconcenti. Rosario, cortesemente, convincente. Cimmino, abbassati ulteriormente. So scherzando. Vai sottoterra. Aiutami, via. Non c'è bisogno, ci slaghi, su questo stai sereno. Vai, Giacardo, il tempo scade. Prego. Ciao. Ci potete mettere dalla regia? Un sottofondo un po' più lovely. Un po' lovely. Ecco, arriverà. Prego, prego, Rosario, vai. Ciao. Ciao. Piacere, mi chiamo Rosario. Piacere, Francesca. Ho 29 anni. Io ho 27. Però tu e ti non guaiato. Ma che siamo uno speed day? Ma ne dimostro sempre 18. Allora, fatti corteggiare prima. Poi rispondi, prego. Ciro, per piacere. Ciro Liviero è già arrivato all'alto. Era un sottofondo romantico, Ciro Liviero. Non gli avevo... Effettivamente, però Ciro Liviero ha ragione, non c'è cosa più romantica. Già sta oltre. Credo che dopo l'Isola dei famosi saprò a chi chiedere. Ok, perfetto. In che senso? Ciro, per piacere. Il mio maestro sarà rock così freddo. Il Ciro, per piacere, è un sottofondo più... Prego, vai, continua. Mi chiamo Roberto. Roberto, ora si chiamano. Ho 29 anni. Non la volto dentro. Dove ti ha vista, prego, per piacere? Meno male che l'ha finita. E... Dalla prima volta che ti ho vista... Dove l'hai vista, dove l'hai vista? L'ho vista nel metro, a fumarsi una sigaretta. Dentro nel metro? Non è pietato fumare. Vabbè, mentre prendevi la multa dai controvoli. È un gioco, dai, prego. Comunque, la ragazza del metro. Ah, sì, sì. È tipo la ragazza con la smart. Diciamo che era in Vesuviana. Scusate, Accardo sta lavorando per conquistarsi... Silenzio. Diciamo che nella realtà tutto questo non avviene. Che sia ben chiaro. E vai, a camolo. Ti ha piacere, non lo so. Perché come fai nella realtà, Accardo? Basta essere se stessi. E quello è il problema. E quello è il problema. Ma scusate, tu non andavi da Carlo apposta. Prego. In chiusura. Dalla prima volta che ti ho visto, da subito ho sentito che c'era feeling tra noi. Tu le sentite? Io questa qua non l'ho sentita. Comunque, qua. Non ce lo puoi a confiare la camera, lo sa. No, figurati. È un siparetto fantastico. Ragazzi, intanto diciamo che Giuliana Taranto, la nostra fotografa, ci sta addirittura facendo un video. Quindi, purtroppo, noi questa scena non ce la dimenticheremo veramente mai. Rosario, solo l'ultima cosa, devi dire ti amo. Un ti amo ci vuole. Cioè, alla prima volta. Fai una dichiarazione. Ma vuoi uscire con me? Ma lasci puttare? Ma ci vuoi? Cioè, vogliamo sta sta. Ma fai finire. Fai anche un regalo. E dalla prima volta che ti ho visto, mi sei piaciuta subito. Ho sentito qualcosa. Al punto di? Chiederti se posso invitarti a cena o una di queste serie. Eh, dagli quella cosa che gli devi dare. In un bel disegno. Accardo, perdonami. Ma scusami. No, è importante. Parlavo del... Vabbè, ma vogliamo avere una stanza. Con un anello in mano puoi mai chiedere di uscire a una persona. Con un anello in mano fai altro. È una verità. No, perché mi piace farlo con un cofanetto. E tu, piaccia, mi abbrusterà un nero. È vero, siamo... No, ragazzi, mi sento oltraggiato. Mi sento oltraggiato. Ma è normale che uno perde l'assuce e non ti chiede di uscire. È normale. Allora, adesso c'è la risposta di Mariarca a questo corteggiamento serrato e... Allora, quando vorresti uscire con me? Anche subito. Allora, subito sono impegnata. Per due motivi. Devo togliere i punti neri ai Dalmata. Dalmata? Che cazze vorresti dire? E poi devo mettere lo smalto ai millepiedi. Siamo emozionati. Emozionati. Fra qualche ora è San Valentino. E non potevamo... Non potevamo non chiamarla. Lei, se non ti cagano nessuno, non è colpa nostra. Non potevamo non chiamare lei. Il crogiolo. Crogiolo. Ma che dico crogiolo? Il mix di sensualità e ironia. Lei, la grandissima. Già sta morendo, sta morendo da ridere... Non so se è emozionarsi o piarti accapate sulle gengive. Secondo me piarti accapate sulle gengive. La mitica Claudia Dipp. Buonasera. Buonasera ragazzi. Ciao Claudia. Scusate per la risata che mi stavo facendo. No, 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 ma vai, ma prego. Con la sua ludica Dipp in my heart. Esattamente. Sono qui specialmente perché c'è San Valentino fra poco. E io ci tengo a dirlo, domani ci resto a casa. Non faccio niente. Non è vero. Ma perché non hai voluto dare soddisfazione a nessuno? No, 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 per scelta. Per scelta? Altrui. Ah, altrui? No, perché lei è anticomunzista. Dice che sta a casa, invece può dire che... Per scelta altrui. Ragazzi, con tempo non è. No, vabbè ragazzi, cominciamo a parlare seriamente. Cioè, io mi sono molto preoccupata la settimana, no, due settimane fa, che ci siamo visti qui, abbiamo parlato del social talker, perché voi dovete saperlo, io sono stata contattata non so da quanta gente che mi ha chiesto, Claudia, scusami, dimmi la verità. Sono io? Ma hai pensato a me? Guarda, te lo volevo domandare, ti giuro, ti giuro. Senza parlare poi delle persone. Ricordiamo che in realtà era abbastato su di me questa scelta. No, dai, ma non è vero. Non c'è nessun dubbio, ci sai, lo sapevano già tutti. Allora, perché ricordiamo, l'ultima volta che è venuta Claudia, abbiamo parlato dei social stalker, ovvero quelli là che su Facebook ti posteggiano. E le varie, i seriali. Come sei bellina, faccetta. Cosa fai stasera, linguetta. Eh, come fai tu, ci slaghi? Come facciò? Per non parlare di adversori mi hanno chiesto, ma lo sai, sono andata a vedere nella cartella altro. Ci ho trovato l'impossibile. Queste cose qua, molto simpatiche. E quindi invece... Di cosa ci parli stasera, Claudia? Una festa, a me non cara, perché in dieci anni che sono stata fidanzata con tre persone diverse, non l'ho mai festeggiata. Non ti volevano fare il regalo? Ma io? Questo è il più classico del classico. Ma io? Ma eravate, scusami, Claudia, eravate tutti insieme? No. La domanda che spero di farla... Ah, come sei simpatica, timmino! No, dalla regia dicono che sei bigamo, oligamo. No, 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 in tre momenti diversi, in tre momenti diversi. Ovviamente, ovviamente. Quella che io chiamo Svalentino. Cioè, nel senso, perché non è... Che non è San Faustino? No, è Svalentino. Insomma, a parte questo nomignolo, insomma, vediamo questa festa che è diventata una festa super consumistica. Perché, cioè, pensateci, chi è che è festeggiata San Valentino? Gli sfigati? No, cioè... No, sono quelli che praticamente o una volta all'anno si aspettano che facciano qualcosa ai propri partner, oppure quelli che una volta all'anno sanno che devono passare su questo tedioso, il regalo, devono fare un regalo alla fidanzata. I baci di cioccolato da portare, i fiori, il weekend da scemarino, non lo so. Da scemarino. A Policastro. Anche perché ci sta che al massimo lo porta a Torre Gavito, a Scalea. Scalea è troppo lontano. Troppo, troppo. Il problema qual è? Che giustamente tutti quanti tendono poi a ostentare questo sbalentino e tutto questo amore profuso in questo 14 di febbraio, con i propri fidanzati. Quindi fanno la fotografia del panorama al mare, si fanno il weekend insieme e devono farlo vedere a tutti. È vero, è vero, è vero. E io ce l'ho chi me la dà. Quanti baci per Gira ti ha regalato il tuo fidanzato perché mi viene regalato sicuramente di più. Questo è quanto. Più è grande il tubo, meglio è, dicevano i saggi. Stefano, datti la regolata. Non ho fatto nessun doppio senso, Cimmino. Se la Cimmino ha in testa sempre il tubo, non è colpa di nessuno. L'abbiamo detto che ci siamo anche... No, e il problema è che quindi Facebook in generale, il sito dei social network, si dividono in queste due grandi fazioni. Cioè quelli che festeggiano un sacco San Valentino, che si ostentano queste belle cose, le sorprese, non sorprese, che hanno fatto i propri fidanzati e poi quelli che prendono per il culo i primi. Cioè nel senso, giustamente, c'è questa specie di astio nei confronti degli innamorati. In realtà non è una questione di astio. Un po' come la Cimmino, che odia gli innamorati. Ma non è vero. Chissà perché. Innamoratevi, anzi, innamoratevi. Perché pensateci, verso... C'è Mariarca che incita Marcio Capatonda nel film. Va bene, concepite. Esatto, esatto. Copulate, prego. Perché pensateci, in quale altre occasioni si creano questi gruppi, diciamo, di odio, amore, ok? Cioè per quali altri... per quali altri diversi... per quali altri diversi occasioni? Cioè si creano in altre due situazioni, per esempio. Quali? Sono quelli lì che, per esempio, amano tantissimo gli animali e preferiscono quasi gli animali alle persone e lo devono stentare, no? Cioè preferisco parlare con il mio cane... Con il mio cane e con il mio fratello, sì. Esatto. Oppure ci sono gli integralisti alimentari, cioè quelli che hanno scelto di essere vegetariani, vegani, e te lo devono dire. Cioè ti devono assolutamente dire, io sono vegetariano, io sono vegano, io ho fatto questa scelta e adesso, cioè, sono superiore a te. E quindi si creano queste due fazioni diverse, di quelli che ostentano e quelli che odiano. Allora, il problema qual è? Il problema è che se i social network ci... tutte queste persone che cercano di ostentare l'amore o qualsiasi altro tipo di scelta della vita, è come se si ergessero su un piedistallo. A paladini. Esattamente. Facendo di quello che loro stanno manifestando in quel momento una specie di propaganda. E' chiaro che non è che chi si... pensateci. Poi ti appende la ragazza e diventi peggio di tutti. No, perché vi vedo abbastanza... No, no, io la stavo ascoltando. È un'intelligenza incredibile, molto psicologica. È un ragionamento. Quindi io sto... Perché domani stai sola a casa. A parte che domani fai porto i pop corn e ci vediamo un bel filo. Claudia, chiedo buona porti. Però la inserro bene. La inserro bene e non solo la porta, capito, ci slaghi? Non ti smetti da non ti ascoltavo perché sei sempre molto sopravvino. Tra l'altro oggi è di un'eleganza, ragazzi miei, fantastica. La deep in red. Sempre più gnocca, dobbiamo dire. Perché lei frequenta Monica Iacobucci, per questo motivo... Vabbè, ma non solo. Ora fa scatenare le fai. Ragazzi, scusate, su, e su via. Vabbè, quindi tu sicuro vai a... Sono in stile rosso perché domani non esco. Quindi ho detto vabbè, esco. Sì, è vero, metto bene. Sta crescendo il naso, mi fa tutto. Ragazzi, dopo andiamo al tabaccaio e compriamo il cioccolato. Non ci crede nessuno. Sono in un periodo di folle, di studio, matto e disperato, alla Leopardi, Giacomina, mi chiamavano. Certo. Non ti crede nessuno. La Giacomina dei Ponti Russi. Comunque, ragazzi, allora, il problema dell'amore, del vegetarianismo, di essere vegani o di amare tantissimo il proprio cane. Allora, qual è? Tutto in un calderone. E non c'è assolutissimamente nessun problema. Cioè, fate l'amore, andate col cane a fare le passeggiate. Andate col cane a passeggiare. Andate col cane a fare le passeggiate. Allora, mangiate quello che volete voi. Cioè, nel senso, vi piace la carne, non vi piace la carne. Mangiate veramente quello che volete, senza uccidere la salute degli altri. Però non lo fate sapere, perché è sempre la vostra vita privata. E l'ostentazione non è propaganda. E non mettete le foto di weekend a Ascia Marina, abbracciata, già decise, basta. Cislaghi, ma tu a Ascia Marina che c'hai un contratto con l'elento del turismo? Che lo nomini sempre? A Licola, scusate. A Licola? Ah, ok, ok.